è andato se l'ha andato mamma mia è andato via step numero uno superato i turbi se ne vada non ho capito manco dove giocare ma non me ne può fregare nemmeno lo scaldabagno è off limits per la S Roma il che significa che il mio rilascio è vicino, mancano solo due cose marez vabbè e poi femmine, doppia femmina tette a barconcini e tutto qua ma sono fiducioso il che significa che potrei essere rilasciato molto presto se festeggia se festeggia di conseguenza bicchiere bicchiere eccolo che è sto coso barba papà champagne non ce l'ho acqua acqua del bidet perfetto e adesso musica che schifo mi sta venendo la umidata forse era meglio che ne la prendevo l'acqua del bidet non è molto potabile o commestibile ma comunque non importa se sopravvivo ragazzi miei il mio rilascio è vicino taglia che i turbi ce la faccio più ciao ciao Grazie a tutti.